Rigo Piano, settimana cruciale in tribunale contro la rovescia dei familiari che da sei anni attendono verità e giustizia, sentenza di primo grado fissata al 23 febbraio. Volkestein slitta tutto di un anno, sospesa all'asta degli stabilimenti balneari, tirano un sospiro di sollievo i 450 operatori abruzzesi, attesa una riforma globale del demanio marittimo. Si alza il sipario sulla bit di Milano, la fiera internazionale del turismo, domani sarà il giorno di Pescara con 34 operatori a promuovere il capoluogo adriatico. Servizio civile remunerato a Sant'Egidio alla vibrata, ma i giovani desertano il bando del comune. Solo otto hanno risposto su 21 posti disponibili. L'appello del sindaco Romandini. Una buona domenica, ben ritrovati al nostro appuntamento con il Tg Abruzzo. In apertura lo avete sentito, quella che verrà sarà una settimana cruciale per la sentenza, per arrivare alla sentenza del processo sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, sentenza fissata al 23 febbraio. Ci fa il punto nel servizio la nostra Sara Del Vecchio. Manca poco ormai al 23 febbraio, giorno in cui il giudice Gianluca Sarandrea leggerà in aula al Tribunale di Pescara la sentenza di primo grado sui presunti responsabili della tragedia dell'hotel Rigopiano, spazzato via da una valanga il 18 gennaio 2017, quando 29 persone morirono sotto le macerie dell'albergo. 30 sono gli imputati in attesa di conoscere il proprio destino, 29 persone più la società Gran Sasso Resort. Un dramma che, come hanno ripetuto anche i procuratori, poteva essere evitato. Oltre 150 anni di reclusione per 26 imputati sono stati chiesti dall'accusa sostenuta dal procuratore Giuseppe Belelli e dai sostituti Andrea Papalia e Anna Benigni. I familiari delle vittime, alcuni sempre presenti in tribunale, attendono verità e giustizia da sei anni. La commemorazione il 18 gennaio scorso ha coinciso anche con la prima udienza del 2023. Il maltempo ha fermato la cerimonia sul luogo della tragedia che i familiari stavano per raggiungere in pullman. La nevicata del primo pomeriggio li ha fermati a Farindola in chiesa. La prossima settimana ci saranno tre udienze, come da calendario, dal 15 al 17 febbraio. In programma le repliche della procura e anche quelle dei difensori. Nelle ultime sei udienze hanno parlato i legali degli imputati che hanno cercato di smontare le accuse. Le competenze di ognuno hanno tenuto banco per cercare di far capire chi aveva il compito di controllare, organizzare o decidere. Omissioni e ritardi però sono sotto gli occhi di tutti. Ora non resta che attendere il 23 febbraio. In ultima ora che arriva da Pescara un uomo di 69 anni, originario di Monte Silvano, è stato trovato morto la notte scorsa in pieno centro. I carabinieri hanno trovato il corpo privo di vita lungo le scale di un condomino in corso Umberto. Sembrerebbe esservi una correlazione con un vicino BNB dove forse l'uomo si stava recando oppure dal quale usciva. Il corpo senza vita è stato trovato vicino al portone. Si ipotizza la morte naturale per malore, ma le indagini dei militari dell'arma non escludono al momento alcuna ipotesi. Ora cambiamo argomento. Avranno almeno un anno in più di tempo i balneatori per prepararsi alle aste delle concessioni degli stabilimenti, così come vuole la Bolkestein. E questo grazie alla proroga del governo. Ci fa il punto Sergio Cinquino. Hanno tirato un sospiro di sollievo i 450 balneari abruzzesi dopo la proroga di un anno all'applicazione della direttiva europea Bolkestein votata alla Commissione Bilancio del Senato nei giorni scorsi. Esultano gli imprenditori del mare che temevano la tagliola che fissava al 31 dicembre 2023 come scadenza per la messa all'asta delle concessioni fino ad oggi invece rinnovate automaticamente ai titolari. Un anno di proroga fino al 2024 per affrontare la riforma più globale del demanio marittimo a cominciare dalla definizione dei nuovi canoni, cifre alla mano troppo basse. Un sospiro di sollievo per i balneatori non solo pescaresi. La sostanza che cosa è accaduto e quanto possono prendere tempo gli imprenditori del mare? Gli imprenditori del mare francamente hanno bisogno di prendere il giusto tempo perché sono anni che viviamo nell'incertezza e quindi sono bloccati sia gli investimenti ma anche un cambio di rigenerazione del territorio, del demanio. Gli stabilimenti balneari premono per poter rinvestire, per adeguarsi a strutture ecosostenibili e il c'è e il resto. Certo noi abbiamo chiesto come sindacato italiano balneari che si cancellasse la legge Draghi, la legge emanata la 118 nell'agosto 2022, da lì ripartire per riformare una volta per tutto sto benedetto demanio turistico ricreativo che è totalmente diverso di tutte le strutture che stanno all'interno del demanio marittimo. Perché diciamo questo? Perché dopo 60 anni è giusto che questo demanio turistico ricreativo esca dal codice della navigazione e dia alle imprese balneari la certezza di poter investire su un'area demaniale. Invece cosa è successo? È successo che in questa fase comunque dobbiamo dare atto alla governatrice, al governo Meloni, alla Presidente che comunque ha dato una mini proroga per quando riguarda il decreto attuativo e un anno di tempo perché i comuni si possano attivare per eventuali procedure di evidenza pubblica. E quindi verosimilmente queste gare quando si potrebbero avere? Se ci saranno? Le gare come è scritto ci saranno, la data ultima è il 2025 ma a monte di come fare le gare, quindi di come vogliamo scriverlo a quattro mani noi operatori turistici insieme alla politica italiana. Che tenga conto anche di due o tre cose fondamentali, l'indennizzo per l'uscente, la premialità per chi ha fatto questa impresa, la terza questione è tenere conto che i lavoratori devono essere garantiti. E si è aperta oggi a Milano la BIT, la Forza Internazionale del Turismo, domani un evento importante per la delegazione pescarese che cerca turisti con 34 operatori che promuoveranno il prodotto Abruzzo, Pescara dunque protagonista dopo il boom di presenze dello scorso anno nel capoluogo adriatico. Sentiamo. Sarà per la prima volta a Milano per la BIT la Borsa del Turismo al Via Oggi, la città di Pescara con l'obiettivo di fare il pieno di turisti sulla scia degli ottimi risultati fatti registrare dal capoluogo adriatico nella passata stagione. La delegazione pescarese partirà domani con la previsione di un evento nel pomeriggio e con la presentazione di un video che avrà come lancio la nuova fontana musicale di Piazza Salotto. Pescara per la prima volta alla BIT dopo l'espluare la scorsa stagione di turisti, un momento importante per il capoluogo adriatico. Un momento molto importante, un momento storico sarei dire perché è la prima volta che Pescara sbarca alla BIT, alla Borsa Internazionale del Turismo e siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto in questi anni dalla bandiera blu all'ufficio di informazione turistica e tanti eventi che abbiamo creato nella nostra città che hanno portato tanta gente sul nostro territorio ma ancora di più hanno fatto parlare molto bene di Pescara nell'intera nazione e anche fuori nazione. Lo presenterete con un video? Lo presenteremo con un video che rappresenterà Pescara, parlerà di Pescara attraverso gli eventi che sono stati organizzati nel nostro territorio. Una Pescara che è reduce da un appuntamento e soprattutto da risultati eccellenti per quel che riguarda le presenze. Come spiega questa cosa? Pescara è riuscita ad attrare tantissime persone in questi anni sul proprio territorio. Il periodo dopo il Covid è stato fondamentale per questo, siamo molto soddisfatti, crediamo che abbiamo creato una grandissima offerta nel nostro territorio e abbiamo avuto delle risposte adeguate. La delegazione partirà domattina? Sì, Pescara domani mattina partirà e domani pomeriggio ci sarà la presentazione alla BIT a Milano e siamo, ripeto, molto contenti di questo lavoro che premia la nostra città perché permette alla nostra città di andare nella vetrina più importante del turismo esistente oggi in Italia e quindi per la prima volta Pescara si presenterà e sarà soltanto la prima di una lunga serie. Un video che partirà parlando della nuova fontana? Un video che parlerà della città di Pescara, farà vedere Pescara nella sua bellezza raccontata attraverso i grandi eventi che ci sono su Pescara, accanto a quelli tradizionali, il Pescara Gezzi, il Premio Flaiano, Funambolica, il Fla, abbiamo inserito tutti quelli che abbiamo creato noi, il Wheel of Fest, il Festival d'Annunziano, Cartoon on the Bay, Pescara Città dei Bambini, insomma tutti i format che sono stati creati. Accanto a questi ci sono tanti eventi turistici, parleremo anche della bandiera blu e parleremo anche della fontana perché il video che presenteremo vedrà questa opera che è stata creata al centro della città sicuramente caratterizzare quello che è stato fatto da questa amministrazione. Solo otto giovani su 21 posti disponibili hanno risposto alla domanda di partecipazione al servizio civile bandito dal comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il sindaco Elicio Romandini ricordando che lo Stato paga 450 euro al mese per un anno lancia dunque un appello ai giovani di tutto il territorio della provincia di Teramo. Solo in otto hanno risposto al bando del servizio civile a Sant'Egidio alla Vibrata su 21 posti disponibili. Il comune spera ora nella proroga dei termini concessa dal Ministero perché possa contribuire a sollecitare i giovani non occupati a prestare la propria attività per l'ente. C'è stata una proroga e la presentazione della domanda è stata prorogata fino al 20 febbraio. Quindi un invito, ripeto, ai giovani, lo dico anche alle famiglie, ai nonni, ai papà che hanno giovani tra 18 anni e 29 anni possono fare la domanda. C'è ancora tempo e c'è spazio soprattutto. Noi abbiamo avuto l'approvazione di questo progetto, siamo risultati tra i primi in Italia ad averlo approvato e quindi l'abbiamo avuto. Abbiamo 21 posti che potremmo comunque assegnare a ragazzi non solo di Sant'Egidio ma anche dei paesi limitrofi e chi ritiene di partecipare può comunque andare sul sito del comune e online fare la domanda entro il 20 febbraio. Nonostante lo Stato assegni 450 euro al mese rispetto agli anni passati, questa volta sembra non esserci interesse da parte dei giovani ad approcciare al mondo del lavoro. Il servizio civile da quando io sono insediato è stato sempre approvato, c'è stata sempre grande partecipazione e devo dire che alcuni giovani hanno avuto l'opportunità poi di farsi conoscere tramite il comune ma anche fare esperienza qui dallo staff del sindaco agli asili nido o presso l'ufficio tecnico, l'ufficio amministrativo hanno trovato anche posto di lavoro. È un servizio che viene retribuito dallo Stato per circa 450 euro al mese, per 12 mesi, quindi per un anno. La cosa dovrebbe partire, comunque l'impegno dovrebbe partire da aprile-maggio di quest'anno fino a un altro anno. Quindi la preghiera è di iscrivervi, fatelo perché è importante a parte la remunerazione ma soprattutto per le esperienze che potreste fare dentro il comune di San Degidio. Restiamo nel terramano. Il centro servizi volontariato Abruzzo scende in campo con un progetto nuovo che collega oltre 50 associazioni e gli studenti delle scuole superiori. Non solo un percorso di discussione e confronto ma saranno loro stessi parte attiva con esperienze dirette. Ce ne parla Chiara Bonatti. Scuola e volontariato, un progetto promosso dal CSV Abruzzo su territorio terramano. Centinaia di studenti per 12 scuole superiori che avranno la possibilità di conoscere le associazioni circa 50 che prenderanno parte al progetto. Saranno due i percorsi formativi da una parte il confronto, dall'altra l'atto pratico con l'esperienza concreta con gli enti di terzo settore e associazioni, un modo per conoscere e vivere al meglio all'interno della comunità territoriale. Ha infatti lo scopo di avvicinare i ragazzi alle esperienze di senso civico, solidarietà, libertà e dono che rappresentano i valori del non-profit e in particolare far conoscere agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado le attività delle associazioni di volontariato. Il progetto di scuola è il volontariato del CSV Abruzzo, ha lo scopo proprio di promuovere i valori del volontariato, di portare le esperienze dei volontari all'interno della scuola. Perché è importante? Perché i valori del volontariato sono i valori della nostra società, i valori su cui si basa il nostro vivere quotidiano. Il volontariato costituisce le nostre comunità e crea luoghi di speranza, di accoglienza, di relazione. Il primo valore che vogliamo portare è proprio il valore della persona e della relazione. Come si svolge questo progetto? Che cosa dovranno fare i ragazzi? Il progetto si articola in due azioni. Cosa mi gira intorno? Io, tu volontari, proponiamo ai ragazzi delle scuole superiori di secondo grado, il triennio in particolare, dei momenti formativi e informativi, quindi dei momenti di sensibilizzazione sulle tematiche del volontariato, sull'opportunità a livello nazionale ed europeo, offerte ai giovani, quindi possibilità di partecipare ai bandi del Servizio Civile Universale, piuttosto che al Corpo Europeo di Solidarietà, quindi da un lato dei momenti formativi e informativi, dall'altro dei veri e propri percorsi esperienziali attraverso l'azione Io, tu volontari, in cui i ragazzi fanno una vera e propria esperienza di service learning, nel senso che mettono in campo le proprie energie, anche conoscitive, le proprie competenze a servizio della comunità, perché attraverso l'esperienza e il mettersi in gioco che possono capire quale è la loro possibilità di cambiare la società, il loro apporto per la costruzione della nostra comunità. E siamo allo sport, iniziamo dalla Serie D, nel Girone F si è giocata la ventiquattresima giornata, la capolista Pineto si è fatta fermare sullo 0-0 dalla Samba, non ne ha approfittato la Vigor Semigallia e dunque il distacco dalla squadra di Amalo è rimasto di sei punti. Va all'Avezzano invece il derby con il Chieti 1-0, pesante sconfitta interna per il Notaresco 0-3 contro il Cinzia Albalonga, ha infine esordito con un pareggio sulla panchina della Vastese Giovanni Cornacchini 1-1 contro il Termoli. Questi erano i risultati, ora andiamo al calcio promozione, il Terramo rifila 4 gol alla Rosetana e approfittando dell'ennesimo passo falso della Turris Val Pescara scappa a più 9 vittoria del campionato quasi in cassaforte. Sentiamo Giussi Cingoli. Il Terramo ha battuto la Rosetana per 4-1, una vittoria meritata, strameritata sul campo perché il Terramo l'ha cercata soprattutto nel primo tempo, nei primi minuti la squadra di Pomanti ha incontrato qualche difficoltà nel prendere le misure all'avversario che ha giocato a viso aperto, ma poi al 25esimo è arrivata la prima rete il Terramo è passato in vantaggio grazie all'autorete di Chietà il raddoppio è arrivato dopo due minuti ad opera di Cosmo Palumbo al suo nono sigillo stagionale e poi il calcio di rigore è trasformato sul finire di tempo da De Gidio per il 3-0 quindi già nel primo tempo la partita ha preso un verso perché il Terramo l'ha incanalata nel verso giusto, una vittoria importante perché consente alla squadra di Pomanti di portarsi a più 9 sulla Turris sconfitta in casa contro il Lauretum poi nella ripresa un po' di nervosismo in campo, la Rosetana che ha giocato il tutto per tutto per tentare di riaprire la gara in un paio di circostanze ha sfiorato anche la rete è andata in gol sul calcio di punizione con lo Grieco il Terramo sul finire della gara a due minuti dalla fine ha segnato il poker con il giovane classe 2004 Lorenzo Marcone e quindi sono altri tre punti pesanti per la classifica il primo tempo non si è partito benissimo però secondo me grosso merito alla Rosetana la Rosetana che è partita alla grande, ha fatto 20 minuti di alta qualità, ci ha messo in difficoltà noi eravamo un po' troppo nervosi e quando c'eravamo palla andavamo più gestire la palla meglio per spostare la palla da una parte all'altra poi dopo 20 minuti una volta sbloccato il risultato siamo stati brevi a giocare tra le linee con De Gidio e Palumbo e poi abbiamo creato tante occasioni siamo stati brevi nel prima partita poi come hai detto tu nel secondo tempo questa è la nostra costante però un po' ci sta ci sta però poi il problema è che poi ci nervosiamo, ci nervosiamo noi e rischiamo poi di rovinare sempre delle grosse prestazioni e rischiamo pure di rovinare un risultato altri tre punti pesanti, un teramo sempre più solo al comando con nove punti di vantaggio sulla Turis sì 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 oggi tre punti importantissimi al di là del risultato della Turis sono contento della prestazione dei ragazzi del risultato io lo dico sempre, noi dobbiamo guardare a noi stessi, fa piacere che la Turis dietro di noi sta rallentando però a me fa enormemente piacere il nostro percorso, quello che stiamo facendo perché noi stiamo facendo un grosso campionato e non ci sono aggiornamenti per il TG Abruzzo è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci